È partita da poco la campagna di sterilizzazione 2024 della Lega Antivivisezionista, intitolata Un punto in tempo ne salva 100. La sterilizzazione di cani e gatti è di fondamentale importanza per contrastare il randagismo. In questo modo si aiuta a controllare la sovrappopolazione e si previene la nascita di numerosi cuccioli che potrebbero finire abbandonati o in condizioni di sofferenza. Innanzitutto ci tengo a ringraziare Ivana Spagna che si è prestata in qualità di testimonial per la nostra campagna importante Un punto in tempo nel salvacento. Sul nostro territorio nazionale vagano milioni di animali e questo numero è in continuo aumento. Se noi pensiamo che una gatta dopo i primi sei mesi di vita è in grado di proliferare, produrrà in un anno 256 gattini. Questo è un discorso che vale anche per i cani. Quindi questa campagna è importante perché oltre a ridurre le nascite può anche risolvere molti problemi veterinari quali orchiti, cisti, ovariche e mastiti. Quindi è importante sterilizzare e soprattutto non ci siamo mai forse posti il problema di quando vediamo un cane o un gatto investito sul ciglio della strada se questo animale avrà dei cuccioli che moriranno di stente di fame perché la loro mamma non sarà più in grado di alimentarli. Vi chiediamo quindi di sostenere con un piccolo contributo questa nostra campagna che ridurrà senz'altro il numero delle nascite e anche la sofferenza di tanti animali. È possibile effettuare una donazione alle coordinate bancarie indicate sul sito leal.it.